Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la lezione di algebra di oggi andremo a vedere la moltiplicazione e la potenza di monomi. Nella scorsa lezione abbiamo visto infatti come si possono sommare due o più monomi, con la condizione che questi monomi fossero simili, ovvero che avessero la stessa parte letterale, ovvero le stesse lettere, esattamente la stessa potenza. Ecco invece, ora ci vedremo che nel caso della moltiplicazione noi potremo agire anche su monomi che non sono simili tra di loro. In particolare andremo a vedere come calcolare il prodotto di un monomio per un numero, come calcolare il prodotto di due monomi e infine come calcolare la potenza di un monomio. Cominciamo subito con il caso più semplice, cioè il caso in cui prendo un monomio e lo moltiplico per un numero. E come potete vedere da questo esempio qui, in realtà è molto semplice come procedere. Allora, andiamo a vedere il nostro esempio. Qui abbiamo 2, quindi il nostro numero, moltiplicato con 3x alla seconda. E di nuovo, come vedete, ho identificato con colori diversi il coefficiente e la parte letterale. E come vedete, appunto, noi andremo a intervenire solo sul coefficiente, la parte letterale rimarrà invariata, cioè non cambierà. E semplicemente andrò a fare 2x3 che mi dà come risultato 6. E questo è il prodotto di un monomio per un numero. Un pochino più complicato è il caso del prodotto di due monomio. E prima di andare a vedere l'esempio, andiamoci a leggere insieme la regola generale. Allora, il coefficiente, quindi il monomio che sarà il risultato di questa moltiplicazione, sarà il prodotto dei coefficienti. Quindi, sono due monomi, sarà il prodotto dei coefficienti di questi due monomi. Chiaramente le regole che ora qui andiamo a vedere per due monomi saranno generalizzabili, chiaramente, al prodotto di 3, 4, quanti monomi volete. La parte letterale sarà il prodotto delle parti letterali, che avete qui dove ci saranno i problemi maggiori, dove è di solito più facile sbagliare. Allora, vedo di guidarvi in questo esercizio. Allora, come vedete, ho il prodotto tra due monomi. Quindi, meno 3a per 5a b alla seconda. E seguendo la regola generale che abbiamo scritto qui, comincio intervenendo sui coefficienti. Qui è il coefficiente del primo monomio è meno 3, il coefficiente del secondo monomio è 5. E come vedete, sono andato a moltiplicarli e ho scritto direttamente il risultato. Meno 3 per 5 fa meno 15. Importante, chiaramente, è non sbagliare il segno. Per la parte letterale, ecco, devo andare a moltiplicare tra di loro le lettere dello stesso tipo. Quindi, qui ho a, qui ho a, le moltiplico tra di loro e so che a per a fa a alla seconda. Eccola qui. Vado a vedere l'ultima lettera che mi rimane, b alla seconda, che non è più moltiplicata ad altre lettere del stesso tipo, quindi la posso riscrivere qua sotto pari pari. Quindi il risultato della moltiplicazione tra il monomio meno 3a e il monomio 5a b alla seconda è meno 15a alla seconda b alla seconda. Ed è interessante che un'osservazione per cui riguarda il grado sia dei monomi di partenza che del risultato. Perché, per esempio, questo è un monomio di grado 1 e il grado 1 rispetto all'a è il grado 1 complessivo. Questo è un monomio di grado 3 perché è il grado 1 nella a, grado 2 nella b, quindi sommate, questo è di grado 3. Il risultato avrà un grado complessivo che sarà la somma dei gradi dei singoli monomi. Quindi 1 più 3 fa 4, cosa che possiamo facilmente verificare. Infatti questo è di grado 2, questo è di grado 2, 2 più 2 fa 4. In questo caso, invece di stabilire la regola generale, preferisco agire da te con un esempio, ricordando che poi la potenza non è altro che un caso particolare di prodotto, di prodotto di una quantità per se stessa. Ecco, cos'è questo monomio? 6 m alla terza n, tutto elevato alla seconda. È importantissimo in questi casi mettere il nostro monomio tra parentesi e l'esponente fuori perché se noi mettiamo questo al quadrato senza le parentesi, uno può leggerlo come se questo numero fosse attaccato solo a n. Quindi lo leggerebbe come 6 m alla terza n alla seconda, questo lo vogliamo evitare. Bene, cosa significa questa scrittura? Significa essenzialmente prendere il monomio 6 m alla terza n e moltiplicarlo per se stesso. Quindi moltiplicarlo per un altro monomio 6 m alla terza n. A questo punto possiamo procedere esattamente come abbiamo fatto prima. Quindi, moltiplicare tra loro i due coefficienti, 6 per 6 che fa 36. moltiplicare tra di loro tutte le m, qui abbiamo m alla terza, qui abbiamo m alla terza, ricordandosi la regola di somma delle potenze con la stessa base, si sommano semplicemente le esponenti di 3 più 3 che fa 6. E infine n per n che fa n alla seconda. E di nuovo io vi consiglierei di mettere in pausa il video, guardare come abbiamo proceduto e vedere di capire qual è la regola generale per la potenza di un monomio. Ecco, la regola generale per calcolare la potenza di un monomio e non solo al quadrato, sarà che noi dovremmo fare la potenza sia del coefficiente sia della parte letterale. E ora vediamo un altro esempio. Questa volta elevando un monomio, ho tenuto un monomio con coefficiente negativo alla terza. Ecco, meno 2 x y alla seconda, tutto elevato alla terza. Allora, come si procede? Farò meno 2 elevato alla terza, e vi ricordo, la potenza dispari di un numero negativo sarà sempre negativo, perché meno 2 per meno 2 fa più 4, ma più 4 per meno 2 fa meno 8. x elevato alla terza fa x alla terza, e y alla seconda elevato alla terza, e qui dobbiamo ripescare quelle nozioni sulle regole delle potenze che abbiamo imparato in prima media, qui le potenze si moltiplicano, gli esponenti si moltiplicano, 2 per 3 che fa 6. Ed ecco qua il risultato della nostra potenza di un monomio. E con questo è tutto, arrivederci alla prossima lezione da Mr. Boschianini. Grazie.